Conferenza stampa dell'Octoberfest, sempre in tema di Oktoberfest per il Gran Trofeo d'Europa e con me Riccardo Boschi, il team manager del J-Cup Racing, una casa motociclistica molto importante se non erro la sua. Sì, noi siamo una squadra che partecipiamo al campionato del mondo della classe 450 MX1 con Yamaha e abbiamo partecipato a tutto il campionato del mondo, tra l'altro vincendo l'ultima prova in Olanda e come ogni anno siamo presenti qui alla manifestazione di Soverato per l'amicizia con Rinaldo, l'accoglienza e poi sta diventando una manifestazione a livello sempre più internazionale, molto conosciuta. Quindi come noi a fine stagione facciamo la tappa finale qua. I percorsi che in genere compiono i piloti sono molto irti, ricordiamo quello dell'Olanda, anche l'ultimo quello del Quatar e questo di Soverato come l'è sembrato? Sì, questo è un fondo sabbioso e la sabbia di mare è un po' particolare, diciamo che è una sabbia tutta particolare che ci vuole un tipo di guida simile ai terreni olandesi, del Belgio e tutto. Però richiedo da parte del pilota una grossa abilità perché essendo sabbia molto soffice ogni giro cambiano le traiettorie quindi non è molto semplice da correreci sopra. Potrebbe diventare Soverato una tappa del Gran Premio Mondiale? Ma perché no? Lì dipende un po' dall'organizzatore. Si fanno tante tappe in tanti posti, tante nazioni, perché no farne una in più magari in Italia e farla proprio qui a Soverato. Ed è con me l'organizzatore il presidente Rinaldo Tirotta, presidente del motoclub Stilaro Racing. È un avvenimento importante qui a Soverato, nomi importanti e abbiamo visto nel corso della conferenza stampa un pilota di MX1 e anche MX2, se non sbaglio Davide Guarneri, molto importante per gli italiani insieme ovviamente a Tony Cairoli. È un avvenimento importante, Soverato, un percorso bello. E perché no? Perché non arrivare al Mondiale con Soverato tra le tappe, l'Olanda, il Qatar e via dicendo? Beh, sarebbe veramente bello, entusiasmante l'idea, riuscire a portare un evento così importante in Calabria ma io penso che sarà, no, non diciamo, no, non debbia, ma sicuramente se le istituzioni e chi può darci una mano ci starà vicino, il nostro impegno è pronto, subito cercheremo, certo non si può fare dalla sera alla mattina ci vogliono degli anni per poterlo richiedere, trovare una location adeguata, una situazione adeguata per poter fare un evento del genere. Personaggi importanti grazie al nostro impegno alla collaborazione del Motoclub Trecolli e tantissimi altri amici che fanno il Mondiale Team Manager abbiamo avuto una buona adesione di nomi importanti che sicuramente portano onore alla nostra zona al nostro territorio e alla nostra città di Soverato. Questa è la decima edizione, grande presenza di pubblico, oggi credo vi siete superati quindi rispetto agli altri anni vuol dire che la manifestazione sta avendo successo? Probabilmente è presumibile di sì, visti i fatti, visti le persone, visto che le presenze ci sono poi io sono sempre fiducioso e ringrazio sempre i miei angeli custodi, lo dico pubblicamente perché sono devoto agli angeli, ci hanno sempre regalato delle bellissime giornate affinché noi possiamo regalare degli spettacoli belli e affinché tutta la gente si possa divertire nel migliore dei modi.